Il direttivo provinciale della Copa Agri del Nord Sardegna denuncia ritardi nel pagamento del contributo sicittà del settore UV Caprino, approvato dalla Regione per tutte le imprese agricole che percepiranno aiuti superiori ai 5.000 euro. La norma entrata in vigore il 19 novembre 2017 sulle modifiche al codice delle leggi antimafia contiene un comma che rallenterebbe le procedure di rilascio dei contributi. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei. In altre parole, tutte le pratiche che prevedono la concessione di fondi europei superiore ai 5.000 euro andranno necessariamente accompagnate dalla certificazione antimafia. Il rilascio di tali certificazioni spetta alla prefettura di Sassari che ha a disposizione pochissimi giorni a fronte di 14.000 aziende che hanno fatto richiesta. La Copagri del Nord Sardegna chiede l'intervento delle istituzioni affinché si blocchi l'applicazione della normativa che, dichiara Paolo Ninniri, presidente della Copagri del Nord Sardegna, ritarda i pagamenti previsti in questi giorni penalizzando il settore agricolo in Sardegna.